ah no? no eccolo speravo di si come puzza di me ragazzi da quando devi vedere bellina la sorella di nabba non me la ricordo più non l'ho mai vista ma ogni volta forse si l'ho vista però forse piccola era nabba come è tua sorella e porca che cazze domande è che cazzo l'ho fatta pure a pago l'ho fatta pure a pago questa domanda come è tua sorella che cazzo che cazzo che cazzo penso che penso che la sorella penso che la sorella di pago ha bloccato su instagram ha cominciato a seguire da nulla ah ti ha bloccato grandioso tutto bene no 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 i suoi post li vedo allora ho tolto le storie grazie 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 grazie